ciao innanzitutto ciao come state vediamo questo secondo per scrivere come state 3 2 1 oggi un video diverso non è una vera e propria reaction una sorta di reac challenge prova a non head bangingare provateci anche voi cioè dobbiamo sta fermi non dobbiamo scapocciare come si dice in italiano voi dell'estero imbarate di questa parola scapocciare vuol dire head banging 3 2 1 ah non devi muovere nemmeno piedi e mani però non è giusto far più così no per favore lo sai che molti di uber hanno fatto questa cosa no io mentre li guardavo se vabbè che ci vuole cioè è una cazzata è difficile invece no sto andando contro il mio corpo oddio però però gli hanno scelti proprio c'è sono stronzi proprio oddio non è giusto ti giuro non la sento no no oddio che cos'è ma quando partono di troppo è impossibile perché sai che capito tutti belli poi no sono stati infami proprio e poi vedi pure loro che lo fanno poi quando la visuale fa così esatto esatto ti invoglia è tossa te lo giuro cioè quando guardavo quei video ho detto sì ma che che ci vuole che ci vuole sannaffapinda invece no ma poi riff o groove come cazzo come fai a scapocciare no il cold orange no eh pure questo è bello oh no oddio è interessante va a fare molto pesce E' un po' di più. Ah, questo è stato fatto. E' proprio da solo questa manga. E' un po' di più. nemmeno le vanni buttano uova questa è la peggio che potevano mettere no veramente questo ritmo proprio rispecchia quel movimento quel piatto che capi stava dispero che non già hanno messo i cristallenti sono giapponesi ma cos'è? chi è? non lo so non lo so da dove è uscito questo chi è? oh ingoste main più goth impressione eh si ma guarda qualcosa non lo so 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 ragazzi ti giuro la facevo semplicissima ma poi io non mi aspettavo tutta cioè io pensavo capì metal normale heavy metal che ti viene da fare sì sì no proprio quello hanno scelto proprio le parti no demolisce mamma mia ragazzi cioè degli architects quella quella è proprio quella è da fare sì ma poi rimani fermo è una marcia cioè è stato tragico tipo vedevo già le dynes e faceva i video così io guardavo diceva vabbè non deve essere tanto difficile che ci vuole a stafermo poi cioè hanno saputo scegliere benissimo mamma mia tutte belle poi manca di una un po' più brutta sì sì bruttiva non c'è stato poi un attimo di distacco capi qualcosa più leggero ti capi il secondo distacco che il titolo della canzone no una presso all'altra proprio che fa soffrire proprio un metodo di tortura innovativo secondo me provateci pure voi ragazzi fateci sapere se avete perso tanto se vi è piaciuto qualche brano volete che approfondiamo questa qualche reaction del brano di qualche brano che avete sentito in questa compilation sì commentate e niente noi ci vediamo alla prossima ciao al prossimo video al prossimo video non si sa che video sarà non lo so nemmeno io 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 non lo so nemmeno io